Come far vivere il proprio gatto più a lungo senza ammalarsi? I gatti sono animali domestici molto popolari e possono essere compagni affettuosi e leali per molti anni. La speranza di vita media di un gatto è di circa 15 anni, ma alcuni gatti possono vivere anche fino a 20 anni. Ci sono molte cose che i proprietari di gatti possono fare per aiutare i loro amici pelosi a vivere una vita lunga e sana. Una dieta sana e bilanciata è essenziale per la salute generale del gatto. Assicurati di dare al tuo gatto un cibo per gatti di alta qualità che sia ricco di proteine, acidi grassi omega-3 e altri nutrienti essenziali. Evita di dare al tuo gatto cibi umani, che possono essere ricchi di calorie e grassi e carenti di nutrienti essenziali. La tua elettatura regolare aiuta a rimuovere i peli morti e lo sporco, che possono opacizzare il pelo del tuo gatto e causare problemi di salute. Spazzola il pelo del tuo gatto almeno due volte a settimana, o più spesso se il tuo gatto ha un pelo lungo o folto. La salute orale è importante per la salute generale del gatto. Pulisci i denti del tuo gatto regolarmente per prevenire la formazione di tartaro e placca, che possono portare a problemi dentali e problemi di salute sistemici. I gatti hanno bisogno di esercizio fisico per rimanere in salute. Fornisci al tuo gatto un posto sicuro dove giocare e arrampicarsi. Se il tuo gatto è un gatto di appartamento, puoi anche portarlo a spasso al guinzaglio. Porta il tuo gatto dal veterinario per controlli regolari. Il veterinario può rilevare eventuali problemi di salute in anticipo e aiutarti a sviluppare un piano di trattamento. I gatti sono animali curiosi e possono essere soggetti a incidenti. Tieni il tuo gatto in un ambiente sicuro e privo di pericoli. Esistono vaccinazioni disponibili per proteggere i gatti da molte malattie comuni. Consulta il tuo veterinario per informazioni sui programmi di vaccinazione appropriati per il tuo gatto. Ecco alcuni consigli specifici per aiutare il tuo gatto a vivere una vita più lunga e sana. Mantieni il tuo gatto in forma e sano. Un peso sano aiuta a ridurre il rischio di malattie croniche, come il diabete e le malattie cardiache. Fornisci al tuo gatto un ambiente sicuro e confortevole. Un ambiente sicuro e confortevole aiuta a ridurre lo stress e il rischio di lesioni. Stimola il tuo gatto mentalmente e fisicamente. I gatti hanno bisogno di stimoli mentali e fisici per rimanere in salute e felice. Ama e coccola il tuo gatto. L'amore e le coccole possono aiutare a ridurre lo stress e migliorare la salute generale del gatto. Seguendo questi suggerimenti, puoi aiutare il tuo gatto a vivere una vita lunga e sana. Prendersi cura del proprio gatto è un impegno importante, ma è anche molto gratificante. Prendendosi cura della salute e del benessere del proprio gatto, i proprietari possono aiutare il loro amico peloso a vivere una vita lunga e felice.